10 5 vai destra 6 per destra 3 tonda in sinistra 3 meno chiude in destra 6 70 dal rail sinistra 5 per destra 5 in sinistra 6 tieni 100 destra 5 più occhio in sinistra 6 per destra 6 e subito tornante sinistro 200 a vista in fondo al rail destra 5 lunga tieni 50 e alle zebre tornante destro occhio all'interno vai 120 sinistra 6 tieni per sinistra 6 tieni in destra 6 vai 100 destra 5 apre vai 50 sinistra 6 lunga lunga tienila 60 stringi in destra 5 meno e subito tornante sinistro chiude 200 alle zebre destra 5 corta 130 sinistra 6 120 destra 6 tieni 70 e alle zebre tornante destro occhio all'interno in sinistra 6 tieni per destra 6 vai 50 destra 6 120 e alle zebre è tornante sinistro 150 vista a fine muro ritarda sinistra 5 meno 80 destra 5 meno tieni in sinistra 6 vai e molta attenzione destra 3 meno chiude 50 sinistra 3 più 70 sinistra 5 tieni e ritarda tornantone destro 50 destra 6 per sinistra 6 tieni 80 ritarda destra 5 chiude 4 la seconda in sinistra 3 più 70 destra 6 per sinistra 5 corta in destra 6 vai 250 a vista in fondo al rail sinistra 6 tieni 70 sacrifica destra 5 chiude 4 la seconda per sinistra 5 due tempi lunga e al tettino chiude 4 e occhio in destra 6 tieni per tornante sinistro per destra 5 vai in sinistra 6 250 a vista in fondo al rail destra 6 in sinistra 6 e in attenzione destra 4 destra 4 in sinistra 6 e attenzione la chicane devi entrare a destra destra 6 lunga stringe 100 e alle case tornantone destro in sinistra 6 tieni in destra 5 occhio 70 sinistra 6 100 destra 5 in sinistra 5 più più 130 destra in sinistra 4 100 destra 6 150 e al rail tornante sinistro in destra 5 vai 70 al muro destra 3 meno alla chiesa in destra 3 lunga occhio all'interno 80 ritarda sinistra 4 per ritarda sinistra 4 apre 6 lunga tiene e per destra 3 meno meno occhio all'interno in sinistra 6 in destra 6 vai chiude 5 50 sinistra 5 70 dosso dritto 80 sinistra 6 per destra 6 in sinistra per al muro ritarda destra 5 in sinistra 6 100 50 con 60 60 50 60 61 62 63 63